Un tragico episodio che mette ancora una volta in risalto le difficoltà del servizio sanitario in Campania. Fa discutere e suscita l'attenzione nazionale la triste vicenda che ha colpito la famiglia di una donna 59enne deceduta a causa di un malore avvertito nei pressi dell'ospedale Scarlato di Scafati, dove peraltro è giunta accompagnata dal marito in cerca di un medico che potesse prestare dovuto soccorso. Una vicenda che ha suscitato indignazione nella comunità e nel primo cittadino di Scafati, Pasquale Aliberti, che nonostante le pressioni non ha ancora ricevuto risposte in merito alla riapertura dei reparti che sono stati chiusi per lavori, tra i quali il pronto soccorso e che ad oggi, nonostante siano trascorsi i tempi previsti per la realizzazione delle opere, restano ancora chiusi privando i cittadini di adeguata assistenza. A dimostrazione del grave danno che stanno subendo gli utenti dell'ospedale Scarlato, la vicenda della donna che, mentre si trovava nei pressi del nosocomio Scafatese, aveva avvertito un malore. Immediatamente è stata accompagnata presso il vicino ospedale, dove però non sono riuscite a trovare l'assistenza sperata a causa della chiusura del pronto soccorso e una ridotta disponibilità di personale medico. Si è dunque dovuto ricorrere alla chiamata del 118, che purtroppo non è riuscito ad arrivare in tempo per salvare la vita alla 59enne. Una donna di 59 anni che muore fuori l'ospedale di Scafati, perché l'ospedale di Scafati è chiuso, non esiste il punto di primo intervento, quello che avevano a me promesso in qualità di sindaco. Una donna di 59 anni che non riesce ad essere soccorsa dal personale sanitario in una città di 50.000 abitanti, in una regione che è la Campania, dove il 118 funziona con a bordo l'autista, l'operatore sociosanitario e ogni tanto anche l'infermiere. E dove sono i medici? Chiamare il 118 significa affidarsi alla fortuna. Ci piangiamo questa tragedia che sia di insegnamento per la sanità che doveva essere costruita e che non è mai nata in questa regione. Il sindaco punta dunque il dito contro la sanità campana che al momento continua a far registrare gravissimi disagi anche in gran parte del territorio salernitano. Una situazione che non la scendenne neanche un ospedale come il Mauro Scarlato, che pur servendo una popolazione di circa 50.000 abitanti, dispone ad oggi di solo 24 posti letto a fronte dei 70 disponibili lo scorso anno prima di un incendio che si è verificato in un'ala dell'ospedale e prima dell'avvio dei lavori che ad oggi non sono ancora terminati.